Stiamo indubbiamente vivendo un periodo di crisi sotto vari livelli, in particolare quello economico. Se ne parla tantissimo, si parla di cosa dovrebbe fare lo Stato, si dibatte su cosa dovrebbero fare le aziende, ma secondo me si sta trascurando quello che è il punto più importante in assoluto, ovvero che cosa dovremmo fare noi come risparmiatori, come investitori, come persone fisiche, al fine di imparare quanto più possibile da questi brutti periodi di crisi e al fine di affrontare i prossimi che verranno più preparati, il video di oggi cerca di colmare un po' questa lacuna, cercando di intavolare una riflessione, un dibattito su quelle che secondo me sono 5 grosse lezioni che un periodo di crisi ci può insegnare. Buonasera amici crypto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi esuliamo un po' dalle solite tematiche di trading, di speculazione e di bitcoin per fare un passo indietro e parlare di un qualcosa che secondo me è ancora più importante, perché si parla veramente di gestione del proprio capitale e pianificazione economica personale, che sono delle tematiche che ognuno di noi deve fare proprie prima di avventurarsi poi in aspetti più tecnici come l'investimento o gli asset specifici. Quindi oggi vediamo durante una crisi quali sono 5 elementi che fanno la differenza tra chi la subisce e chi invece ne esce a testa alta con più tranquillità oppure addirittura riesce a profittare dai momenti di crisi, perché ahimè è vero la crisi è un momento di difficoltà per molti, ma per chi ci arriva preparato e sa come muoversi può trasformarsi in un'enorme opportunità. Andiamo subito al dunque e vediamo quali sono questi 5 aspetti, partendo dal primo che è quello più importante di tutti, ovvero ognuno di noi deve imparare a ragionare su se stesso come se fosse un'azienda, come se fosse un'attività. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi dobbiamo vedere quello che produciamo, quello che spendiamo, quello che entra, quello che esce e quello che possediamo, esattamente come se stessimo facendo un bilancio aziendale. Ragionando in questo modo riusciamo poi a fare delle proiezioni sul futuro, riusciamo a fare dei piani di investimento, riusciamo a capire in che situazione ci troviamo. Pianificazione finanziaria di base. Questo significa andare ad analizzare appunto innanzitutto le nostre entrate e le nostre uscite, il nostro stipendio, le nostre rendite, tutto ciò che entra periodicamente. Tutto ciò che esce, inteso come le spese ovviamente obbligatorie perché la cena fuori, l'aperitivo, quelle sono cose accessorie e non sono da includere nel bilancio fisso, diciamo così, ma sono da includere poi in una voce a parte che dovrebbe essere l'ultima in classe di priorità che sono appunto le spese accessorie, quelle da minimizzare per capirci. Comunque facciamo innanzitutto il nostro bilancio di entrate e uscita, poi dobbiamo capire quali sono i nostri debiti, quindi se noi abbiamo dei finanziamenti, dei mutui, dei debiti da pagare per l'appunto e ovviamente gli asset che possediamo, che possono essere beni di valore, che ne so, possono essere dei lingotti d'oro, possono essere delle monete d'oro, degli immobili, delle azioni, qualsiasi cosa che è vendibile per un valore e magari che genera rendita. Quelli sono gli asset, ok? Da non confondere con i beni di consumo che non sono assolutamente asset perché non sono beni destinati a tenere il valore ma sono beni di consumo, quindi non bisogna cadere in quella trappola di dire sì mi sono comprato la macchina a valore perché quello poi è un valore destinato a scendere nel tempo, non è un asset, è un qualcosa di più tendente al debito diciamo, ma vabbè. Il piano economico è la prima cosa, perché? Perché ci permette di capire in che situazione ci troviamo, ci permette di capire quanto debito abbiamo rispetto a quanto ci entra, se sono bilanciate le nostre spese rispetto a quanto ci entra, se i nostri asset stanno crescendo nel tempo, quindi questo è il punto di partenza, la fotografia attuale, che ci permette di capire se siamo un'azienda sana, tra virgolette, adesso approfondiremo nei punti a seguire, oppure se siamo un'azienda a rischio, ok? Quindi la nostra stabilità economica se vogliamo. La prima cosa da voler ottenere è appunto una stabilità economica perché da lì poi c'è prospettiva di crescita, quindi di accumulo di asset e di riduzione del debito. Quindi la prima cosa da fare è proprio quella, avere la nostra fotografia e cercare di ottimizzare il rapporto entrate-uscite, banalissimamente, ovvero ridurre le uscite non necessarie. Sembra una banalità ma non la è. In questo modo si accumula capitale e poi con quel capitale ci si può fare tante tante altre cose, ma il capitale è la prima cosa indispensabile e fondamentale da avere. E questo ci porta al punto 2. Vi faccio una domanda. Come mai la maggioranza delle aziende, delle piccole aziende, soprattutto delle attività commerciali ristrette, falliscono in questi periodi di crisi? La risposta, ovviamente la risposta è complicata, non si può fare di tutta l'erba un fascio, però una delle caratteristiche principali per cui le attività falliscono è l'assenza di liquidità. Se un'attività rimane priva di liquidità, quell'attività non è più in grado di pagare i debiti, non è più in grado di pagare le spese e pertanto si trova costretta a chiudere, a dichiarare bancarotta. Lo stesso vale con noi stessi, ovvero se noi non abbiamo più liquidità, siamo veramente in difficoltà perché non riusciamo più a far fronte alle spese, non riusciamo più a pagare i nostri debiti e quindi siamo costretti o a indebitarci ulteriormente, peggiorando quindi il nostro piano finanziario che dicevamo prima, oppure, peggio ancora, a dover vendere degli asset. E vendere degli asset in un periodo di crisi spesso e volentieri a una cattiva idea perché molti, appunto, trovandosi costretti a vendere, vendono, i prezzi scendono drasticamente e pertanto si realizza molto spesso una perdita o comunque si mutila parecchio il guadagno dell'investimento che si aveva in mente. Il terzo punto importante da prendere nei periodi di crisi per salvarsi nelle prossime occasioni è quello di minimizzare il debito e di eliminare il debito non necessario. Che cosa vuol dire? Vuol dire che indebitarsi, ovviamente, porta a un peggioramento del proprio piano economico. Tornando al nostro punto 1, entrate, uscite, asset e debiti. Gli asset potrebbero generare rendita o apprezzarsi, i debiti invece continuano a portarci via del capitale, ci riducono le entrate in maniera fissa. Quello che noi vogliamo fare è incrementarle nel tempo. Col passare degli anni noi vogliamo avere entrate sempre maggiori in modo da avere una crescita della nostra azienda personale che siamo noi. Se ci aumentano i debiti, se noi pensiamo, non appena abbiamo delle entrate, non appena abbiamo liquidità, a come spenderle, quindi con l'ottica del consumatore anziché dell'investitore, tendiamo poi a finire la liquidità come prima cosa e in seconda battuta a farci dei debiti non necessari. Le rate per l'asciugatrice, le rate per la macchina, le rate per qualsiasi cosa. Sono delle situazioni che ammazzano il piano economico personale perché gli tagliano proprio le gambe. Arrivare a situazioni di questo tipo significa non avere nessuna prospettiva di crescita, fare dei passi indietro anziché dei passi in avanti. E se si è sommersi dai debiti e i debiti superano ovviamente le rendite degli asset, va a finire che nei periodi di crisi, quando c'è il rischio che manchi l'entrata fissa, la nostra liquidità fissa, non avendo liquidità e avendo dei debiti molto alti ci troviamo in una situazione veramente sgradevole che non augurerei a nessuno. Perché uscire da una situazione di quel tipo lì è quasi impossibile perché o i debiti ci vengono abbonati o altrimenti dobbiamo chiedere prestiti, fare altri debiti per avere la liquidità per pagare gli altri debiti. È una situazione veramente pazzesca alla quale bisogna evitare a tutti i costi di finirci dentro. Finché magari la situazione è buona, finché le entrate ci sono, finché l'economia cresce, noi diciamo ma sì tanto io sono tranquillo, i miei debiti li pago, posso permettermi di farli. Però così facendo intanto mettiamo in stasi il nostro piano economico e quindi non cresciamo come azienda personale ma rimaniamo tale quale. E in seconda battuta dipendiamo in maniera atroce da una singola cosa che ha quell'entrata, che se viene a mancare per una situazione di crisi ci potrebbe sempre essere, ve lo ricordo, è imprevedibile, magari è raro, però può capitare quando meno ce l'aspettiamo e va a finire che ci troviamo veramente in ginocchio. Quindi no ai debiti non necessari, minimizzare l'indebitamento laddove possibile e appunto cercare di avere un quadro economico personale il più florido possibile e il più sbilanciato verso gli asset anziché verso i debiti. E questo ci porta quindi al punto numero 4 che è quello di accumulare asset durante i periodi floridi, durante i periodi di crescita positivi. Per quale motivo? Perché quelli solitamente sono i periodi in cui c'è abbondanza di liquidità, ovviamente in termini relativi perché non tutti hanno le stesse disponibilità, non tutti hanno le stesse entrate e quindi ognuno deve farsi conti in tasca con quello che ha. Però anche se a poco bisogna avere quell'ottica di prendere quel poco in eccesso e investirlo in un asset, in un qualcosa che renda, in un qualcosa il cui valore è destinato a crescere nel tempo. In questo modo innanzitutto non ci facciamo tentare dalla filosofia del consumatore, ovvero di spendere quella liquidità che abbiamo lì e in seconda battuta la facciamo crescere, portiamo il nostro piano economico nel verde, nel lato favorevole, ovvero andiamo a incrementare le rendite dovute agli asset. In questo modo siamo in grado in un eventuale futuro in cui la nostra entrata principale viene compromessa di avere altre tipologie di entrate e di avere quindi un cuscinetto di liquidità disponibile. Nel caso peggiore possiamo vendere i nostri asset per ottenere liquidità e quindi ci troveremo sicuramente in una situazione migliore rispetto ad avere debiti anziché asset. L'ultima lezione da apprendere nei periodi di crisi, che è forse anche quella più banale, però non va data per scontata, è che le crisi accadono. Quindi non bisogna pensare che quando è finita la crisi che tutto va bene, allora tutto andrà bene per sempre e iniziare a ragionare appunto come se la nostra situazione economica può portarsi avanti in questa stessa situazione da qui all'eternità. Non è affatto così perché improvvisamente per i più disparati motivi potrebbe accadere che ci troviamo di fronte ad un'altra crisi e pertanto ci dobbiamo far trovare preparati. Spero che i concetti che abbiamo visto oggi vi siano stati utili e a tal proposito se ne avete altri da suggerire vi chiedo di farlo nei commenti in modo da discuterne perché davvero ciò che fa la differenza tra chi subisce la crisi e chi invece non la subisce o potenzialmente ne approfitta è proprio questo, l'avere liquidità a disposizione, l'avere un piano economico solido e proiettato alla crescita, l'avere asset e non avere debiti e in questo caso quindi ci troveremo durante i periodi di crisi con liquidità e saremo in grado di utilizzare nel migliore dei casi e dell'ipotesi quella liquidità per acquistare altri asset che qualcuno svende in preda al panico e in preda ahimè alla costrizione. Non bisogna trovarsi in quella situazione lì, l'unico che può fare la differenza siamo noi stessi ovvero il prepararci in questo modo alla prossima crisi che verrà. Ditemi che cosa ne pensate, vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!